La macchina fotografica e 17 fotografie trovate sul luogo dell'uccisione di Nadine Jean-Michel, le due vittime francesi del mostro di Firenze, non sono state trovate nei due plichi aperti stamani dalla Corte d'Assise di Firenze. Per gli avvocati dei familiari delle vittime potrebbero essere importanti per nuove indagini e chiedono di cercarle ancora. Il servizio di Giulia Baldi. Nei plichi aperti dalla Corte d'Assise nella L'Alobunker di Firenze ci sono abiti femminili e un pezzo di tendina canadese, ma non la macchina fotografica o le 17 foto scattate da Nadine Moriot pochi giorni prima di essere uccisa nel 1985 dal mostro di Firenze insieme al fidanzato Jean-Michel Cravechvili. La delusione degli avvocati Vieri Adriani e Gaetano Pacchi è palpabile. Per le famiglie dei francesi quelle foto introvabili sono un ricordo affettivo, ma potrebbero essere anche un elemento utile alle indagini sugli otto duplici deliti del maniaco. Potevano essere rilevanti e poter costruire il percorso fatto da queste due persone e quindi eventualmente i luoghi che avevano visitato, le persone che avevano incontrato, avere maggiori indicazioni anche sulla data della morte. All'udienza hanno partecipato anche gli avvocati Antonio Mazzeo e Walter Biscotti in rappresentanza del nipote di Mario Vanni, oltre che della sorella di Jean-Michel. I due legali puntano alla revisione del processo di Vanni, condannato in via definitiva per quattro degli otto duplici delitti. Per loro il pezzo di tenda trovato nei plichi potrebbe confutare il super testimone Giancarlo Lotti. L'unico dato rilevante di stamattina forse è questo, è che la copertura interna della tenda, il telo, quel telo leggerissimo, quasi trasparente, è integro nella parte posteriore. La ricerca delle foto di Nadine comunque non si ferma. Dobbiamo pensare che se non è da una parte deve essere da quell'altra, non possiamo mica pensare che sono state soppresse, non sarebbe più grave.